Per il primo colpo dell'Avellino bisogna attendere ancora, ma non per mancata volontà del club bianco-verde. I lupi aspettano Jacopo Murano dal Perugia, il padron d'Agostino da qualche giorno ha trovato l'intesa totale con l'omologo dei grifoni santo padre, così come con la punta, ma l'arrivo del samurai in Irpinia ancora non si è concretizzato. La dirigenza dei lupi aspetta notizie dal suo agente Andrea Cattoli, inseguito da due giorni ed in questo momento all'estero. A quanto pare lo scoglio da superare sarebbe legato ad una richiesta economica più alta da parte del procuratore. Così come si continua a monitorare Amato Ciciretti, anche in questo caso per il numero 10 del Pordenone si è mosso il padrone che insieme al DS di Suma proverà a fargli accettare le avanze dell'Avellino, ma di sicuro l'eventuale arrivo dell'ex Empoli, se ci sarà, avverrà solamente al photo finish negli ultimi giorni di mercato, su di lui anche gli occhi del Como. Dopo aver risolto la questione relativa a Giuseppe Carriero vanno sistemate quelle di Salvatore Aloy e Sonny D'Angelo, entrambi sono in scadenza di contratto e al momento il loro futuro resta un punto interrogativo. Andrea Sbraga aspetta l'offerta giusta, il centrale non ha preso in considerazione le proposte di potenza. Vibonese e Teramo, Michele Bianchini, agente di Alberto Dossena, ha confermato invece l'interesse di alcuni club di B, sottolineando però che il calciatore è concentrato sulla sua stagione in maglia bianco-verde. Qualcosa sì, però sono chiacchiere, però siamo concentrati ora su questa stagione.